Andiamo a seguire questi 100 metri misto uomini alla sede di Stefano Giuntoli Tutti schierati per partire Forse anche abbastanza rilassati Un po' di ritardo per questa partenza Dovremmo essere ok, a posto Il giudice sta passando, ha controllato tutto a posto Andiamo a sentire i tre fischi Aspettiamo ancora il fischio lungo Ancora eccessiva l'attesa Ok, è arrivato il segnale, a posto, possiamo partire A leste Partiti Questo primo 50 stile Un po' indietro riguardante È un rispetto i olandesi Passaggio 27-37 di Stefano Parte l'apnea E siamo fuori All'este Andiamo a vedere l'ufficiale 1-8-83 1-8-83